Buongiorno a tutti, vi presentiamo Tecnogaz TV. Questa è un'iniziativa che nasce per aggiornare i nostri clienti su tutte le novità dell'azienda. Pubblicheremo infatti due filmati al mese inerenti, prodotti, novità, peculiarità tecniche e vantaggi fiscali. I nostri specialist vi faranno entrare nel mondo Tecnogaz attraverso semplici e brevi video. Per restare aggiornati potete iscrivervi subito al canale Tecnogaz col pulsante qui sotto oppure seguite i link in descrizione. Buona visione!